la birra di oggi è una birra belga non è una birra diciamo dei grandi classici del belgio ma anzi di un micro birraificio piuttosto recente e stiamo parlando di brasserie della Seine vediamo quindi subito la scheda con tutte le informazioni di questa birra appunto come annunciato brasserie della Seine siamo in Belgio per essere precisi siamo nella zona di Bruxelles capitale quindi nella zona centrale del Belgio vicino proprio a Bruxelles appunto il nome di questa birra è Sine Beer lo stile è una Belgian Pale Ale categoria 24B del BJCP grado alcolico di questa birra a 6 gradi formato bottiglia da 33 centilitri ho acquistato questa birra a se non erro 4 euro presso un beer shop o meglio era la l'ho acquistata presso la tap room di Brewfist che hanno alcune birre in bottiglia anche per l'asporto e il bicchiere suggerito per questa birra direi che è un tulipano o in alternativa anche una pinta ma in questo caso preferisco utilizzare un tulipano e sì si tratta di un primo assaggio allora da dove partire innanzitutto partiamo dal fondo della scheda primo assaggio da un po' che sento nominare questa da qualche anno che ormai leggo appunto delle recensioni sempre molto positive su questo micro birrefigio Brasserie della Seine ma appunto non mi era ancora capitato di assaggiare nulla sempre per stare nella parte bassa della scheda di questa birra il bicchiere allora pensando inizialmente fosse una Belgian Blonde ho tirato fuori subito un tulipano adesso sono andato a guardare quando ho tirato fuori poi la bottiglia ed effettivamente indicate come Belgian Pale Ale e in alcuni casi le Belgian Pale Ale vengono suggerite cioè viene suggerito di consumare queste birre in bicchieri a pinta classici inglesi proverò in questo caso nel tulipano a fare questo primo assaggio però di questa birra per tornare al birrificio in questione appunto micro birrificio Brasserie della Seine siamo nella zona di Bruxelles capitale la città per essere precisi è Moulenbic Saint-Jean appunto vicinissimi a Bruxelles il Belgio è appunto suddiviso in tre aree due grandi aree che sono la Vallogne nella parte meridionale del paese dove si parla principalmente francese come seconda lingua fiammingo le Fiandre appunto che sono nella zona diciamo settentrionale del paese dove si parla il fiammingo è solo come seconda lingua il francese e poi c'è la zona di Bruxelles capitale dove coesistono entrambe le lingue infatti su alcuni siti il nome di questa di questo birrificio Brasserie della Seine viene riportato sia appunto in francese sia in fiammingo il significato è appunto della Brasserie della Seine quindi del birrificio sul fiume Seine il birrificio nasce nel 2005 e i due fondatori sono Bernard Le Bucoc che era già stato fondatore di un altro birrificio ora mi sono preso alcuni appunti e aveva fondato la San Peter Brewery che era appunto un altro birrificio di un po' di anni prima chiude praticamente quell'esperienza e fondi insieme a un socio questo nuovo birrificio il suo collega si chiama Ivan De Biz o Baez non so adesso se la pronuncia sia da fare in fiammingo in francese o come che è stato peraltro ex mastro birraio di niente po po di meno che birrificio De Rank birrificio molto famoso e secondo me uno tra i più interessanti dei birrifici diciamo recenti sempre per quanto riguarda il panorama belga piccola nota birrificio De Rank è particolarmente famoso per l'utilizzo del luppolo cosa un pochino strana per il panorama belga ma De Rank ha sempre delle birre tra cui la famosissima XX Bitter che è una buonissima birra ultra luppolata ma senza scadere mai nel solo amaro è molto molto interessante secondo me quella birra e leggevo che spesso molte birre di Brasserie della Seine hanno un utilizzo dei luppoli spesso diciamo caratterizzante quindi potrebbe essere che questa caratteristica appresa comunque maturata appunto presso la precedente esperienza con De Rank sia stata poi trasferita anche in questo nuovo birrificio il birrificio appunto del Brasserie della Seine ha iniziato brassando alcune birre anche in altri birrifici tra cui sempre il appunto già citato De Rank al momento però hanno l'impianto proprio del volume di 20 ettolitri la produzione annua è attorno ai 1800 ettolitri quindi insomma la produzione non piccolissima però insomma diciamo che è un buon micro birrificio per gli standard italiani forse può sembrare un pochino meno per quanto possano essere gli standard di birrifici appunto in belgio però sono appunto realtà completamente differenti come anticipato c'è parecchio hype attorno a questa Brasserie della Seine ma non mi era ancora capitato di assaggiare ed ero molto curioso non so se c'è hype perché le birre sono buone e quindi ne parlano tanto anche i guru di riferimento o i guru ne parlano e quindi le birre sono buone no probabilmente le le birre sono molto buone e sono appunto anche spesso citate da influencer della birra artigianale però appunto ero molto curioso quindi finalmente ho acquistato questa bottiglia questa e altre però ho scelto di registrare il video solo su questa qui per assaggiare finalmente Brasserie della Seine. Passando quindi all'estetica della bottiglia c'è un tappo di colore marrone e bianco con il logo ora non la inclino ma magari poi faccio una foto del tappo per mostrare il logo di Brasserie della Seine dove c'è quella che sembrerebbe essere la Skyland di una città sul fiume ripresa anche nell'etichetta appunto con colori differenti il nome di questa birra è appunto Sinebir che ho cercato di tradurre grazie ai potenti mezzi messi a disposizione da google e appunto il verbo zin o meglio Senne significherebbe appunto sentire sentire a livello proprio sensoriale e quindi potrebbe essere tradotto il nome di questa birra come sentire la birra proprio percepire la birra o la birra che si sente una cosa di di questo tipo stanno sempre sull'estetica c'è una unica etichetta frontale abbastanza grande che ricopre quasi interamente tutto il lato della bottiglia e le informazioni riportate sono standard volume alcolico 5,8 gradi a differenza dei 6 indicati nella scheda ora noto questo particolare gli ingredienti che sono appunto acqua malto d'orzo luppolo zucchero e lievito mentre sull'altro lato della bottiglia c'è data di scadenza lotto di produzione ok direi che quindi possiamo passare all'apertura di questa birra ecco la birra è molto limpida e inizio già a vedere una piccola parte di fondo che si sta avvicinando al collo quindi mi fermerò in questo istante schiuma molto abbondante mentre aspetto qualche secondo che si compatta la schiuma volevo dire due cose sullo stile in questione abbiamo detto belgian pale ale prendo direttamente la prima parte della guida del bjcp che è secondo me è molto esplicativa e appunto descrive perfettamente questo stile dice uno stile moderatamente maltato ora sto traducendo al volo qualche volta fruttato easy drinking è forse la parola chiave per questo stile quindi birra è facile da bere e risultano meno aggressive in flavor quindi sia nel gusto sia nell'olfatto rispetto alla maggior parte delle belghe delle birre belghe carattere vabbè maltato che può nero al biscottato e leggermente può essere leggermente tostato ogni like quindi del mieloso o eventualmente composti che ricordano il caramello allora vediamo un po questa birra se rispecchia lo stile sicuramente dai profumi che già arrivavano all'apertura si direi che siamo perfettamente in quella direzione la birra si presenta schiuma molto compatta molto fine e piuttosto regolare come texture colore della birra limpidissimo un paglierino davvero davvero brillante molto limpida e si vede già una discreta frizzantezza perché si vedono già molte bollicine che dal fondo del bicchiere vanno verso l'alto passiamo quindi al naso allora come anticipato l'intensità appunto aromatica è abbastanza elevata e ciò che emerge è sicuramente prima il carattere appunto maltato che può ricordare un pochino il miele e poi c'è una parte lupolata sicuramente non così forte come mi aspettavo ma in realtà è molto delicato questo lupolo e va sicuramente in direzione floreale e forse un pochino erbaceo potrebbe ricordare annusandola sicuramente a me ricordato subito molte delle birra chiare classiche della tradizione tedesca a bassa fermentazione dalle l sale alle pilsa anche volendo e questo un po mi ricordo quanto davvero tutte le paranoie che ci facciamo su alte bassa fermentazione spesso davvero non hanno poi ragione di essere perché abbiamo lupoli che abbiamo lieviti che in alta fermentazione magari sono poco caratterizzanti e quindi ci potrebbero far pensare a basse fermentazioni o lieviti magari che producono comunque estere o fenoli o certi aromi tipici delle alte fermentazioni ma magari sono lieviti a bassa o lieviti a bassa fatti fermentare in condizioni particolari tra l'altro leggevo che questo birrificio ha un suo ceppo di lievito proprietario non è indicato poi sulle diverse bottiglie quali ceppi e quali lieviti siano stati utilizzati però ha delle culture appunto interne al birrificio proprietarie ok passiamo adesso però al palato ecco direi che la descrizione easy drinky che c'era sul birr giallo certification program è perfetta il che non significa che non sia una birra con una sua complessità e che non sia una buona birra tutt'altro ma effettivamente rientra nelle categorie di birre facili da sorseggiare partendo dall'inizio incomincia sempre piuttosto maltata e anche qui torno della mia parere ricorda tantissimo certe basse fermentazioni tedesche a cui questo inizio boccato maltato che va leggermente verso il miele ma molto leggermente segue poi l'arrivo delicato e via via sempre crescente dell'amaro amaro che non raggiunge il suo picco nella parte finale del sorso ma lo raggiunge dopo e adesso mentre sta parlando continua a persistere questo finale lungo amaricante sempre sull'erbaceo molto interessante questo amaro mi sta già facendo venire voglia di bere un altro sorso perché mi ha già ripulito la bocca da quell'iniziale moderata dolcezza del malto e quindi si direi che rientra perfettamente in quella descrizione che abbiamo letto appunto nel bjcp per quanto riguarda le sensazioni boccali il corpo direi che in questo caso è medio medio leggero ma direi medio c'è una discreta frizzantezza non è elevatissima probabilmente questo tipo di birra ricordandomi così tanto le pills si potrebbe anche provare a giocare spillarle in maniera un pochino più violenta magari per fare un bel cappello di schiuma e quindi diminuire ancora di più l'anidride carbonica risciolta all'interno e renderla magari ancora più facile da bere però già così devo dire che secondo me può essere un buon un buon servizio questa quindi era la CNBR di Brasserie della Seine Skoll e quindi Grazie a tutti.